Mike, adesso voliamo in Germania. Esatto Gigi, perché dal 20 al 22 novembre il FEST, Festival del Libro e della Letteratura Italiana a Monaco di Baviera, ritorna in versione online con il FEST Intermezzo. Il FEST si rivolge a tutte le persone legate dalla passione per la lettura, che condividono il piacere di incontrare e discutere con autori italiani in lingua italiana o tedesca. Ascoltiamo l'ideatrice del Festival, Elisabetta Cavani. Buongiorno Mike, buongiorno, buonasera a tutti gli ascoltatori, dovunque siano. Sì, anche il FEST, il Festival di Letteratura Italiana di Monaco, è rimasto bloccato dall'epidemia e quindi ci siamo trovati a ripensare in che modo rimanere collegati con i nostri ascoltatori, con il nostro pubblico. Abbiamo quindi cominciato già in agosto una serie di video-interviste che si possono vedere su Facebook e sul canale YouTube di FEST Munchen con autori, autrici, con traduttori, traduttrici e altre persone legate al mondo dell'editoria, proprio per mantenere vivo il contatto con il nostro pubblico e anche per mettere in luce certi aspetti che non troverebbero abbastanza spazio nel ristretto e compresso programma di un festival che si tiene in una fine settimana soltanto. Però, quando poi è stato chiaro che neppure in autunno era pensabile riproporre dal vivo il festival, ma che soltanto ci auguriamo nell'estate del 2021 se sarà possibile di nuovo, allora abbiamo deciso di fare un intermezzo e così l'abbiamo chiamato. Il FEST Intermezzo, una versione online del festival che si terrà dal 20 al 22 di novembre online, quindi tramite il canale Facebook sia di FEST che dell'Istituto Italiano di Cultura, il nostro partner, che su Zoom, per chi vuole anche la traduzione simultanea in tedesco, e questo iscrivendosi tramite il sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Monaco. Nel programma, che appunto va da venerdì a domenica, avremo un incontro con il console generale di Monaco di Baviera, Enrico De Agostini e Silvio Magnago, ambasciatore a Berna, che hanno in comune non solo di essere diplomatici di carriera, ma anche di essere scrittori. L'incontro infatti verterà su letteratura e diplomazia. Poi sempre venerdì alle 19 avremo Igiabascego e con lei e il suo libro La linea del colore si parlerà di colonialismo, di identità femminile, multiculturale e di altri interessantissimi aspetti. Sabato ci sarà Nadia Terranova, il cui libro Adio Fantasmi è stato tradotto prima dell'estate in tedesco, e chiuderemo domenica con Andia Trabbia, Madrigale senza suono, premio Campiello 2019, su tema musica, dolore, arte e bellezza. Sarà comunque un programma molto interessante a cui vi invito a seguire, a partecipare, perché in questi giorni, in questi tempi proprio di nuova chiusura, la letteratura e la cultura in generale hanno un ruolo importantissimo. e quindi per evitare di appiattirci semplicemente nella quotidianità che è difficile e pesante e per prendere una boccata di respiro, per mantenere la possibilità, la capacità di immaginare percorsi diversi, soluzioni diverse e magari guardando ad altre epoche o altri destini. la letteratura serve.